Curiosità, informazioni e approfondimenti scientifici sulla star aquilana. Il mammut da oggi sono raccolti in un'interessante, ricca ma semplice guida, curata dalla paleontologa Maria De Laide Rossi e pubblicata da Carsa. Un reperto antico e prezioso, il mammut, il cui restauro è stato finanziato dalla Guardia di Finanza con 600.000 euro, che ha molto da raccontare, che da poco nel bastione est del castello è tornato fruibile a specifiche giornate, che hanno riscosso un successo notevole, sempre tutto esaurito. Un restauro complesso iniziato nel 2013 e concluso due anni dopo grazie al segretariato regionale e alla soprintendenza archeologica, ruolo centrale e quello del Museo Nazionale d'Abruzzo, della cui collezione il mammut fa parte. La guida raccoglie i contributi di molti autori, per lo più sono paleontologi, geologi, che mi hanno affiancato sia nel lavoro del restauro e nello studio dell'esemplare. Quindi all'interno della guida, che abbiamo voluto in bilingue, quindi sia in inglese che in italiano, troverete con un linguaggio sia divulgativo ma rigorosamente scientifico tutte queste informazioni. Il tutto è arricchito da numerose illustrazioni originali di un illustratore naturalistico e anche un paleartista, oltre a numerose foto di rinvenimenti non solo legati al mammut, ma anche di altri siti del Bascino Aquilano. L'ultima pubblicazione ufficiale sul mammut risaliva al 1985. La guida attuale parte dal racconto del territorio in epoca preistorica e vede la collaborazione di diversi studiosi. Narra dell'evoluzione delle scoperte paleontologiche arrivate quasi ai giorni nostri. Il rinvenimento del mammut e l'ultimo restauro rappresentano il cuore del volume, che è una ricca sintesi di tutte le conoscenze che si hanno, una guida bilingue anche in inglese. Grazie.